bella a tutti ragazzi benvenuti in questo video e questo è il primo che faccio quindi per piacere iscrivetevi oggi giocheremo a minecraft con giuseppe quindi giuseppe però nel suo mondo quindi per piacere muoviti ad entrare ragazzi per piacere iscrivetevi se conoscete altri io mi chiamo filomena 09 di palma nel mio mondo e quindi per piacere vi dico per piacere iscrivetevi perché è la prima volta che faccio un video per piacere aspetta che non stacchiamo il video pronto per la vita non ci interessano le patatine però da qui così non riesco e ora si dovrebbe uscire un mio video perché non esce no perché me li togli e tre ore dovrò passare ragazzi in frattempo ragazzi allora questa è casa mia e questa è casa di pepe che ho fatto io quindi si è brutta la colpa perché l'ho fatta io e lo so faccio schifo a fare quelle di legna e tutte queste sono quelle e tutta questa è quella di pepe invece quella mia è questa qua di ferro ok ho fatto il mio video ok guardate è così poi saliamo e sta aglia saliamo e sta il letto saliamo e sta il letto con il tantissimo cesto e poi di sopra alzate questi due patient adesso che vi ho fatto vedere andiamo nel modo di pepe visto che l'ha fatto aspettate ragazzi aspettate ragazzi torniamo al menu principale ragazzi e giochiamo aspetta dove sta tutta la mia roba ah ecco pepe ok no scusate ragazzi non fate domande ah no pepe io anche l'ho presa la tua esperienza poi guarda questa è casa mia che fa sempre schifo ovviamente perché l'ho fatta io ma va veramente se lo dici assurdo pepe tu devi dire no non è vero c'è e invece dici ma dove hai ragione non ci interessano le patatine ragazzi a voi interessano le patatine a me no sì sono buone però ogni volta ogni volta c'è il passo dove vai? ok chi si vuole noi fritto? tutti e tre ne uno grazie grazie però ovviamente Giuseppe non non mi ricordo cosa ti devo dire ragazzi vi faccio vedere tutto il villaggio che abbiamo fatto insieme che abbiamo che abbiamo che io pepe io ho fatto pepe io ho fatto da solo almeno la tua casa che la sei fatta tu pepe questa l'ho fatta da solo ti ricordo che una casa l'ho fatta io ma ragazzi faccio vedere tutto il villaggio la casa di Daniele e di Cristian quella di Cristian l'ho fatta io quella di Daniele l'ha fatta Giuseppe quella di Cristian però è un bel po' grande e quella di Daniele è ancora grande perché c'è un piano di sopra dove c'è un piano di sopra quella di Daniele si è più grande però Cristian non è visto che è un po' più piccola ti devi disiscrivere cioè non ti devi scrivere però è bella grande te lo giuro quindi ti puoi scrivere però a me è bella grande ed è esplosso ed è esplosso pure un creeper mi dispiace però c'è ricostruita quindi adesso scaliniamo scaliniamo? scalumona? Flamena invece di scalinare che io sto andando sopra gli alberi e dove devo scalare? Flamena lo sai che hai visto una cosa di nome rotaia che ti porta su per la montagna da dove parte però? bene seguimi e dove stai? io sto scalinando non scalinare scendi dalla montagna dove sta la casa di Daniele che arriva, arriva, arriva però dove sei? non ti trovo ecco sta là dietro arrivo grazie a Dio che ci sono io che penso a tutto vedi è una ferroviata che porta sulla montagna ma basta che fai pure cose aspetta vengo anch'io aspetta torna indietro no dico prima partita prima partita e poi salgo io capito? orridamela scusa un attimo la pubblicità delle patatine un attimo aspetta te la sto dando te l'ho dato vado io avanti vedi se si può salire a bordo no e ciao ciao vai oh oh no non puoi prendere l'altro perché? non devi mettere l'altro e io come faccio poi a salire a piedi? oh quanto male io devo salire a piedi? salire allora no mi assumerai ecco allora questa non è casa mia non è casa di Christian che ho fatto io personalmente ma io personalmente? quella di Daniele ovviamente no ah Christian ti faccio vedere Christian ti faccio vedere prima quella di Daniele poi ti faccio vedere la tua che sta giù dalla montagna di quella di Daniele e sono caduta che sta giù che è un porto proprio certo come si fa a bollire? sta durando già sette minuti sto video vabbè è il primo che faccio dai ci posso stare ciù 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 lo vedo addio pa è come? si ragazzi poi lo vedremo in diretta con voi vi piace? oh sta cosa delle patatine raga eh ma questa è la casetta di Daniele che sta pure un piano di sotto qua sta una coscienza già l'hai fatta vedere sta questo piano qua sotto piene rottolo piene rottolo poi sta una poi sta il primo piano cioè quello normale che sta un tavolo la cucina eppure io la cucina e la cameretta dove ci sono le scale per andare sopra andiamo sopra allora questa è tutta la cosa di Daniele secondo piano sta il bagno che io Cristian non l'ho fatto perché non c'è bisogno ovviamente sta il diretto aperto cioè la doccia aperta e si entra da qua poi sta questa vaschetta qui Peppe Daniele verrà sempre a casa tua Giuseppe perché lui non ce l'ha al bagno e adesso andiamo a casa di Cristian però Peppe posso prendere i panini da casa di Daniele perché ho famissima ho nove solo oh no solo nove che ho fame gli rimetto a posto erano nove e me ne sono mangiate ora andiamo a vedere casa di Crickri che sta che dovrebbe stare qua sotto sembra se qualcuno non l'ha rotta se no io l'ammazzo perché è casa di Cristian perché non ha più avanti ah no scusa Cristian sta più avanti credo ho detto sta più avanti Peppe è casa di Cristian che ho fatto eccola Cristian arrivo anche io che aiuto sta per caia tu hai scivolato proprio non è che ti sei fermata no scusa Peppe aiutami che sta un coso grande grandissimo sta uno scheletro aiuto no perché c'è un scheletro allora non stanno pretto scheletro mi è mancato vai fuori che prendi focus ho detto fuori se non vai fuori ti ammazzo Peppe mi sta uccidendo pure muoviti vieni per piacere Peppe Peppe per piacere vai fuori vai fuori vai fuori ho detto che te ne devi andare fuori gritto dai vattene ecco l'ucciso avete visto sto dicendo Cristian questa è questa tua bella grande vediamo come se ti ho fatto le cose incantate perché se ne te le faccio si guardate le ho fatte ti ho fatto pure l'arco con delle frecce vabbè poi tutte queste cose che ho di freddo ma la pubblicità di schifo adesso mi buco la mente guardate Giuseppe in diretta ti guardami dove sei dalla martinia dove sei buttata tu aspetta ok vai mi diamo prima domanda ah non basta io c'ho una spada e non ho paura di usarla pure io c'ho una spada e non ho paura di usarla coglia ragazzi adesso andiamo a vedere il video di Giuseppe che è uscito che è uscito veramente si che poi che ne so ragazzi adesso lo andiamo a vedere tanto Giuseppe è pure staccato quattro volte di risoluzione qua quinta tua una risoluzione no non voglio l'altra intro aiuto tre quattro cinque e adesso vediamo la la intro di Giuseppe è usata per la schermata e adesso incomincerà guardate che bella prodigia bellissima una cosa che vuole vedere niente no ci sono due cose qua compate dai no ragazzi è scemo è scemo no ragazzi è scemo e ragazzi adesso vediamo un po' di tiktok no no com'è qua lo stanno facendo vabbè oggi sto particolarmente buona perché ho scoperto che nasconde i giornati e ora mi sento di dover cambiare famiglia ho scoperto Grazie a tutti. Ragazzi, visto che è la prima volta, io non so come si pubblicano, quindi adesso chiamiamo tutti insieme Giuseppe. Uno, due, tre. Giuseppe! Vieni un attimo! Avete capito ragazzi? Come si fa? Pubblicami il video! No, lo sto facendo, che c'è? Pubblicamolo!